Siamo davvero contenti di questo traguardo, abbiamo lavorato tutto l'anno e con umiltà ci siamo presentate partita dopo partita, abbiamo lottato dall'inizio alla fine e penso che ce lo siamo meritati. Siamo felici perché di fatto la 1 era un po' la nostra categoria che ce l'ha stata tolta per problemi che non riguardavano la palla a mano, quindi oggi ce la siamo ripresa, quindi siamo molto contenti. Sì, ha vinto la squadra migliore, sapevamo già che è una squadra forte, comunque noi siamo contenti, abbiamo giocato un torneo buono, siamo contentissime, non so dire altro.